Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un intenso e commovente tributo a Maurizio Costanzo, organizzato dalla carismatica Maria De Filippi, il mondo televisivo ha avuto modo di ricordare una delle figure più iconiche della tv italiana. Durante questo evento speciale, condotto con maestria da Fabio Fazio, Pier Silvio Berlusconi ha colto l'opportunità per riflettere sulla profonda relazione tra il defunto giornalista e suo padre, Silvio Berlusconi, rivelando aneddoti personali e momenti significativi. La serata è diventata ancora più memorabile, quando Pier Silvio ha sorprendentemente proposto a Fazio di unirsi alla famiglia Mediaset, promettendogli un futuro ricco di possibilità, e forse, di trasformare il suo show in un appuntamento quotidiano. Questa proposta inaspettata ha sorpreso Fazio, che ha risposto con umiltà e apertura verso il futuro, nonostante il suo recente impegno con Nove. La storia di Silvio Berlusconi, noto per aver trasformato l'impossibile in realtà, fa da sfondo a questa intrigante proposta, accendendo speculazioni e speranze per un futuro televisivo ancora più brillante. L'evento, lontano da melodrammi e sensazionalismi, ha celebrato la vita e il legato di Costanzo, con allegria e aneddoti divertenti, proprio come lui avrebbe desiderato, con una Maria De Filippi che ha mostrato forza e dignità nel ricordare il marito, esprimendo il suo amore e il suo dolore in modo toccante e riservato. Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Fabio Fazio in Mediaset? Che tipo di programma vorreste? A voi i commenti! Grazie!